Da Barletta a Velletri, dalla prima alla seconda tappa della Maratona Marziale Italiana WTKA, la sostanza in ogni caso non cambia. Gli atleti della BAT salgono sul podio e si ritagliano uno spazio di prestigio nella rassegna valida come prova di qualificazione ai prossimi campionati italiani assoluti, che ha riunito in un unico appuntamento i migliori atleti del centro e sud Italia, molto buono nel complesso la prova nelle competizioni di kickboxing, degli atleti della Federico II di Sveva Barletta e della Korean Team Trinitapoli, guidati rispettivamente dai maestri Ruggero Giuseppe Lanotte e dall'istruttore Cosimo Correa, sei le medaglie collezionate in totale. Il migliore della spedizione della sesta provincia a Velletri è stato Giuseppe Cafagna, capace di confermarsi ai vertici nazionali nel light contact, dove è salito sul gradino più alto del podio tra i meno 63 kg. Buona la prova dell'atleta Barlettano anche nel semi-contact, dove si è piazzato al terzo posto. Doppio bronzo pure per la barlettana Maddalena Mascolo, sia nel light che nel semi-contact. Il bottino per la pattuglia della BAT comprende anche i podi dei due portacolori della Korean Team Trinitapoli, Katia Sisto nel semi e Nicola Sisto nel light, sono entrambi saliti sul gradino più basso. La prossima tappa della Maratona Marziale Italiana WTK è fissata in calendario il 3 aprile a Napoli, domenica 13 marzo al Palapertini di Trinitapoli e in programma invece la seconda fase del campionato italiano di Taekwondo ITF, importante banco di prova in vista degli europei che si svolgeranno dall'11 al 17 aprile a Salonico in Grecia.